E' atterrato poco dopo mezzogiorno l'aereo che da Francoforte ha riportato in Italia. Filippo Turetta, l'uomo accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, sarà trasferito in un reparto protetto del carcere di Verona in attesa dell'interrogatorio di garanzia del GIP. Atteso per lunedì, gli avvocati valutano la perizia psichiatrica. Oggi 25 novembre è giornata mondiale contro la violenza sulle donne. L'Italia scende in piazza due settimane dalla morte di Giulia Cecchettin. Tante le iniziative cortei passeggiate, flash mob, sit-in, rassegne. L'appuntamento principale tra un'ora a Roma. Camera e Senato aprono le porte, in aula le testimonianze di donne vittime di violenza. Dietro queste violenze c'è il fallimento di una società che non riesce a promuovere reali rapporti paritari tra donne e uomini. Il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tiene la tregua nella striscia di Gaza per consentire uno scambio di prigionieri e la consegna di ingenti quantità di aiuti umanitari. Il Presidente americano Joe Biden assicura che la diplomazia è al lavoro per prolungare lo stop ai combattimenti. La soluzione a due stati in Medio Oriente è ora più importante che mai questo tipo di violenza impensabile, ha detto Biden. Liberati oggi 14 ostaggi per 42 detenuti, feste tra i palestinesi. La Commissione europea ha dato il via libera alle modifiche del PNRR italiano, oltre 194 miliardi per coprire, 66 riforme e 150 investimenti. Esulta la Premier Meloni che assicura che spenderemo tutti i fondi dalle opposizioni. Elislein chiarisce che facciamo il tifo per l'Italia, ma siamo preoccupati per l'attuazione, a rischio per i troppi ritardi. 3 gli anticipi della Serie A di oggi apre la sfida tra Salernitana e Lazio a Bergamo contro l'Atalanta. Un test difficile per la prima di Mazzarri sulla panchina del Napoli. Chiude Milan-Fiorentina con Pioli che, nonostante gli infortuni, prova a caricare la squadra. Adesso servono fatti, non parole. Per il tennis la semifinale di Coppa Davis Italia-Serbia in campo. Mosetti poi la super sfida Djokovic-Zinner. Buongiorno e benvenuti al telegiornale da 7. Dunque, in scarpe da ginnastica e tuta è apparso silenzioso e rassegnato Filippo Turetta, gli agenti che lo hanno accompagnato in Italia a bordo del volo militare decollato da Francoforte, dove era detenuto verso Venezia. L'aereo è atterrato in tarda mattinata, dove gli agenti hanno certificato la custodia cautelare e poi il trasferimento verso il carcere di Verona. Vediamo il servizio. Alle 11.26 il volo militare Falcon 900, sul quale viaggiava da Francoforte, è atterrato all'aeroporto di Venezia. Qualche problema di vento forte, ma l'aereo è arrivato con un'ora di anticipo sul programma. Un volo riservato, senza passeggeri, per evitare problemi di ordine pubblico. Gli agenti che accompagnavano Filippo Turetta, 22 anni, accusato dell'omicidio di Giulia Cecchettin, lo hanno trovato silenzioso, quasi assente. Turetta è indagato per omicidio, volontario aggravato e sequestro di persona alla polizia tedesca. Aveva confessato l'omicidio dell'ex fidanzata, ritrovata morta sabato scorso, vicino alla strada che costeggia il lago di Barci Sappordenone, uccisa con 26 coltellate. Nello scalo Marco Polo a Venezia Turetta ha visto i suoi avvocati negli uffici della polizia. Gli è stato notificato l'arresto, poi la corsa veloce verso il penitenziario di Verona. In questi primi giorni Turetta verrà tenuto in infermeria e visitato dai medici e dallo psicologo che valuteranno il suo stato di salute, poi verrà trasferito nel reparto, protetti, in isolamento e sorvegliato a vista per evitare gesti autolesionisti e salvaguardarlo dagli altri detenuti. Probabilmente lunedì l'interrogatorio di garanzia con gli inquinanti di Venezia Turetta dovrà ripetere la confessione fatta alla polizia tedesca non valida per le indagini italiane. I magistrati di Venezia vogliono verificare se ci sia stata la premeditazione, se contestargli anche l'aggravante della crudeltà e l'occultamento di cadavere. Turetta dovrà spiegare perché nei giorni prima del delitto aveva acquistato online il nastro adesivo uguale a quello trovato nel luogo della seconda aggressione. Affossò le ricerche sempre online su kit di sopravvivenza e i suoi spostamenti. Anche quello affossò il sabato della scomparsa. Prima di andare a prendere a casa l'ex fidanzata Vigo Novo era un sopralluogo. Parallelamente alla procura di Venezia ha acquisito la chiamata al 112 del testimone di sabato sera. I carabinieri non intervennero dopo la segnalazione di un uomo che vive a 150 metri dalla casa di Giulia e aveva avvisato dell'aggressione. Dall'arma hanno spiegato che avevano altri interventi in corso e il testimone non era riuscito a leggere la targa dell'auto. Il papà di Giulia scrive sui social parlate, denunciate, fidatevi. Parlate, denunciate. L'omicidio di Giulia Cecchettino ha suscitato forse come non era mai accaduto fino a questo momento una forte ondata di indignazione un po' in tutti gli strati della società, in particolare tra i più giovani. In effetti questa volta vittima e carnefice avevano poco più di 20 anni ma si tratta solo dell'ultimo femminicidio di una lunga lista. Allora facciamo il punto su quello che sono i numeri. Ti faccio fare la fine di quella là. Una minaccia con evidente allusione al caso di Giulia Cecchettino che ieri ad Aosta ha portato all'arresto di un diciottenne. Dopo la fine di una storia con una ragazza minorenne continuava a tormentarla. Vessazioni psicologiche, minacce e violenze erano iniziate durante quella relazione che la ragazza aveva deciso di interrompere. A quel punto lui aveva iniziato a mandarle messaggi minatori, la pedinava, si appostava fuori da scuola. Fino a quella frase che ha convinto i genitori della giovane a rivolgersi ai carabinieri e a sporgere una denuncia. I militari riconoscono la tipica situazione fuori controllo da codice rosso. Le indagini scattano immediatamente. Il ragazzo viene arrestato nella sua abitazione. Ora si trova nel carcere di Brissogne. Ultimo episodio di una lunga serie. Le segnalazioni di violenze e interventi delle forze dell'ordine si stanno moltiplicando. Le telefonate al numero antiviolenze e antistalking 1522 sono raddoppiate sulla scia della storia di Giulia. Quella dei femminicidi è una lista che si allunga ogni 72 ore. Quest'anno abbiamo già superato i 103 del 2022. Siamo arrivati a 107. 87 di loro sono state uccise in ambito familiare e affettivo. I campanelli di allarme ci sono, spiegano le forze dell'ordine, ma spesso non vengono riconosciuti dalla vittima che tende a sottovalutare. Vanno dai comportamenti che mirano a limitare la libertà della donna a cosiddetti reati spia in aumento di circa il 12%. Parliamo di atti persecutori, maltrattamenti e violenze sessuali. La legge varata mercoledì scorso dal Parlamento punta a rafforzare la prevenzione secondaria che ha lo scopo di tutelare la donna dopo la denuncia, velocizzando la valutazione da parte del giudice che entro 30 giorni deve decidere su un'eventuale misura cautelare. Estesa ora anche reati spia per i quali la vittima può chiedere anche l'ammonimento del questore. Secondo gli ultimi dati Istat, ogni due giorni una donna si rivolge ad un centro antiviolenze. Nel 2022 quelle che hanno contattato almeno una volta i CAV sono state 60.751. Oltre il 31% delle donne ha subito nel corso della sua vita una violenza fisica o sessuale. Poco fa il pontefice Papa Francesco ha parlato della violenza sulle donne come una velenosa gramigna che affligge la nostra società e che va eliminata dalle radici. Queste radici, ha detto, crescono nel terreno del pregiudizio e dell'ingiustizia. Vanno contrastate con un'azione educativa che ponga al centro la persona con la sua dignità. Il pontefice ha parlato nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Sono tantissimi i cortei in atto in più parti del nostro paese. A Roma forse il più grande che dovrebbe cominciare tra circa un'ora. Ma lì già c'è la nostra inviata Antonella Galli. Buongiorno Antonella. Buongiorno a te Adriana. Noi ci troviamo al Circo Massimo, quello che nella capitale è il luogo dei grandi eventi, dei grandi numeri. E questa manifestazione che inizierà, come hai detto tu, tra circa un'ora sembra destinata ad essere una manifestazione dai grandi numeri sulla scia dell'omicidio anche di Giulia Cecchettin. Qui lo vedete, stanno arrivando le persone, ci sono molte giovanissime donne, ci sono anche molti uomini, quelli ai quali la sorella di Giulia Elena ha rivolto un accorato appello. Ad organizzarlo è stata l'associazione Non Una Di Meno che da anni è accanto alle donne. C'è stata anche una polemica per l'invito di Non Una Di Meno in cui si esprime una forte vicinanza alle donne palestinesi che ha suscitato non poche polemiche politiche, lo vedremo nel corso della giornata e anche molte defezioni. Ma invece qui le associazioni che hanno deciso di unirsi a questa giornata per la violenza contro le donne sono state molte, tutte quelle che operano nel campo dei diritti civili, faccio un esempio come Archie Gay. Qui il corteo partirà da qui, molto probabilmente un po' in ritardo, per poi andare verso San Giovanni. È un percorso non lunghissimo, ma sarà un percorso rumoroso, come ha chiesto Elena, sempre la sorella di Giulia. Non il silenzio ma il rumore, lo abbiamo visto anche in moltissime scuole nei giorni scorsi e in moltissime università. Già si cominciano a sentire dietro di noi i primi rumori, le prime ragazze che stanno arrivando. Spero voi lo sentiate perché c'è molto vento. Comunque ecco, stanno arrivando le prime ragazze. È arrivato nel frattempo anche l'appello del Presidente della Repubblica che non sia un'indignazione ad intermittenza, ha detto. E a questo proposito io vi volevo raccontare una cosa che è accaduta poco fa. Mi sono avvicinata ad un gruppo di ragazze molto giovani. Ho chiesto loro come mai sono qui. Una di loro, la più sorridente, mi ha detto fino a pochi giorni fa io non potevo neppure immaginare di essere qui perché avevo un ragazzo violento che non mi permetteva neppure di vedere le mie amiche. Ora, dopo l'omicidio di Giulia, ho deciso di lasciarlo. È un piccolo segnale ma forse è già moltissimo. A te Adriana. Grazie, grazie Antonella, anche per aver riportato questo episodio che ancora più di tante parole racconta che cosa significa la violenza contro le donne. Allora, la stessa Antonella Galli ha anticipato la questione delle polemiche. Ci sono state delle polemiche politiche su questo corteo che sta per cominciare a Roma dal Circo Massimo, un corteo dai grandi numeri. Allora, vediamo nel nostro servizio. Giorgia Meloni rilancia su X il messaggio che ieri ha rivolto alle donne nell'iniziativa davanti a Palazzo Chigi. Siamo libere, nessuno può toglierci quella libertà, nessuno può pensare che siamo nel loro possesso. Ricorda il numero da chiamare per le emergenze, 1522, e aggiunge, le leggi ci sono, le istituzioni ci sono, compatte per prevenire e combattere l'abdominio della violenza contro le donne, dello stalking, del femminicidio. Dall'inizio del nostro mandato abbiamo svolto un'importante azione che riguarda gli strumenti di prevenzione e sicurezza. E non ci fermeremo. E se Meloni invita ad andare oltre gli steccati per dare risposte efficaci al problema, la segretaria del PDL Schlein insiste sulla necessità dell'unità di intenti e tutte le forze politiche, senza eccezioni, ribadiscono il proprio impegno, non mancano comunque le polemiche. Le manifestazioni di oggi sono convocate senza simboli e bandiere, aperte a tutti, daranno spazio sul palco a donne israeliane e palestinesi, tra le altre, ma a far discutere sono alcune righe del documento programmatico della mobilitazione in cui si fa riferimento al conflitto in Medio Oriente. Lo Stato italiano, si legge, deve smetterla di essere complice di genocidi in tutto il mondo e schierandosi in aperto supporto dello Stato coloniale di Israele appoggia rifatto il genocidio in corso del popolo palestinese. Una vergogna attacca il leader Italia Viva, Matteo Renzi. Strumentalizzare così un grande emoto spontaneo di solidarietà e vicinanza alla causa femminile non è giusto, non è corretto, avverte il leader di azione Carlo Calenda. Tutti e due non parteciperanno alle manifestazioni, dove non sono annunciati big del centrodestra. Diciamo no alle piazze che nascondono l'orrore sulle donne dei regimi islamici, in calza il vicepremier e il leader della Lega Matteo Salvini. In piazza a Roma ci sarà la segretaria del PD Elislein, il presidente 5 Stelle Giuseppe Conte sarà alla manifestazione di Perugia con Nicola Fratoianni, il leader di Sinistra Italiana, che sta tenendo il suo congresso nel capoluogo Umbro. Ecco, ma allora adesso noi ci colleghiamo invece con Israele, dove c'è Silvia Brasca, perché è il secondo giorno della cessata il fuoco. Ieri, come sapete, sono stati liberati degli ostaggi israeliani, catturati il 7 ottobre e anche dei detenuti palestinesi nelle carceri israeliane. Buongiorno Silvia. Sì, buongiorno a tutti. Oggi sono ancora qui all'ospedale pediatrico di Petatikwa, a un passo da Tel Aviv. Qui sono ricoverati quattro bambini, tre mamme e una nonna, parte dei tredici ostaggi che ieri sono stati liberati da Gaza. Possono partire adesso le immagini, sono quelle diffuse dalle famiglie, rilanciate su ogni social network qui in Israele, i primi abbracci con i padri e altri familiari per i bambini. Ricordiamo che comunque sono famiglie che il 7 ottobre hanno avuto altri lutti, la casa distrutta nei kibbutz, quelli liberati di ieri erano stati tutti catturati dal kibbutz nirose o hanno familiari attualmente ostaggi. Stanno bene anche le cinque anziane ricoverate in un altro ospedale. Ieri avevamo visto la loro liberazione in un video diffuso da Hamas, il momento più delicato. Il momento più delicato è proprio quello del passaggio tra le mani dei terroristi di Hamas a quelle della Croce Rossa internazionale. E poi anche oggi probabilmente vedremo queste immagini se tutto procede bene. Ma proprio nelle ultime ore ci sono due notizie da riferire. La prima, quella che viene da Al Jazeera, dove un esponente di Hamas ha detto in diretta che Israele non starebbe rispettando gli accordi. Ricordiamo che sono 50 ostaggi a fronte di 150 detenuti palestinesi da liberare in quattro giorni. Israele non ha commentato questa frase. La tregua regge a sud, a nord. Questa mattina è stato intercettato un drone, ma sappiamo che Zbola non fa parte di quell'accordo che era stato firmato in Qatar. Insomma, comunque concluso in Qatar. E proprio del Qatar, con il Qatar concludo oggi perché è atterrato questa mattina, qui a Tel Aviv, proveniente da Cipro, un aereo del Qatar con alcuni alti ufficiali. Non si capisce bene perché siano arrivati. Quello che però sappiamo è che è il Qatar il cuore della trattativa, dell'accordo insieme all'Egitto. Ricordiamolo che ha un ruolo anche molto delicato perché controlla il valico da dove entrano e escono, gli aiuti per Gaza e gli ostaggi, insieme anche agli Stati Uniti. Quindi vedremo poi nel corso del pomeriggio come si evolverà la situazione. Tutto è pronto come ieri per accogliere oggi 14 ostaggi e 8 saranno bambini. A te Adriana. Ecco, sta partendo il nostro servizio. Sta partendo il nostro servizio. Ok, allora, no, andiamo avanti. Testeggiano i palestinesi dopo giorni durissimi per loro la liberazione di ieri di 39 prigionieri, 43 oggi in base agli accordi siglati con i buoni uffici di Qatar ed Egitto è il massimo della vittoria alla quale possono aspirare in questo momento manifestazione di gioia soprattutto nei pressi del carcere di Ofer, al valico di Bitunia e più vicino a Ramallah, in Cisgiordania dove però continuano ad esserci frizioni. L'ultima azione ha portato alla morte di un ragazzo di 25 anni ucciso dall'esercito israeliano a Kabatia vicino a Jenin durante un'operazione di arresto. Secondo il quotidiano Erezzi invece a Tulkarem Hamas e Fatah avrebbero ucciso ed appeso ad un palo due palestinesi accusati di essere collaborazionisti. A Gaza nel frattempo il cessato del fuoco continua a reggere migliaia di rifugiati che avevano fatto il percorso verso sud in fuga dalle bombe hanno provato a rientrare nelle loro abitazioni trovando la strada sbarrata dall'esercito israeliano che ha intimato a tutti di rimanere nel sud perché la guerra è solo sospesa. Il cessato del fuoco ha anche velocizzato la macchina dei soccorsi sono 200 i camion di aiuti passati per il valico di Rafa tra questi annuncia Israele ci sono anche 4 autobotti di diesel e 4 camion di carburante per cucinare consegnati direttamente alle Nazioni Unite per fare funzionare le strutture umanitarie essenziali un convoglio e raggiungerà per la prima volta anche il nord di Gaza è solo l'inizio commenta dagli Stati Uniti il presidente Biden che deve rispondere alla pressione della sinistra del suo partito la quale chiede a gran voce che l'America non si schiacci sulle posizioni israeliane e non firmi a segni in bianco a Netanyahu la tregua, sottolinea Biden sta funzionando talmente bene che si lavora per prolungarla fino alla liberazione di 100 ostaggi nelle mani di Hamas e 300 palestinesi potrebbe essere questo il motivo dell'inconsueta arrivo in Israele questa mattina di una delegazione del Qatar l'unico attacco nelle ore infatti è avvenuto non a Gaza ma nell'oceano indiano una nave porta container di proprietà di un imprenditore israeliano è stata colpita da un drone probabilmente iraniano in Ucraina perché nella notte Kiev è stata colpita dai più massicci bombardamenti di droni dall'inizio della guerra circa una ottantina la metà sono stati disinnescati dalla contraerea ma alcuni rottami sono caduti sulle abitazioni e ci sono stati dei feriti è stato l'attacco più pesante che Kiev abbia subito dall'inizio della guerra almeno 40 droni Shahed di fabbricazione iraniana hanno tentato di colpire la capitale ucraina anche se sono stati abbattuti dalla contraerea i frammenti hanno provocato gravi danni e almeno due feriti ma per fortuna nessuna vittima decine i palazzi rimasti senza corrente una trentina di droni sono stati scagliati anche su altre città quasi tutti distrutti prima che potessero centrare i bersagli furioso il presidente Zelensky la Russia ha lanciato circa 70 droni Shahed contro l'Ucraina proprio alla vigilia della giornata di commemorazione dell'Olodomor la leadership russa sembra orgogliosa della propria capacità di uccidere le persone Olodomor è il nome che ricorda il genocidio per fame di oltre 6 milioni di persone perpetrato dal regime sovietico nei primi anni 30 a danno della popolazione ucraina accusata di contestare la proprietà collettiva una strage imperdonabile quella voluta da Stalin aggiunge Zelensky che in questi giorni prepara il paese all'ennesimo inverno di guerra la Russia infatti intende ricominciare a colpire le infrastrutture energetiche dell'Ucraina per lasciare i civili al freddo anche nelle trincee al fronte dopo il fango i soldati devono fare ora i conti con la prima neve caduta condizioni estreme che rallentano le operazioni militari e favoriscono lo stallo che da mesi regna in prima linea i russi premono sul settore di Avdivka nel Donetsk mentre l'esercito ucraino è molto attivo nel sud nella regione di Kherson dove negli ultimi giorni ha ottenuto successi di rilievo riuscendo a costituire una testa di ponte sulla sponda orientale del fiume Dnipro l'obiettivo principale della controoffensiva di Kiev scattata in primavera resta la città di Melitopol e il Mar Dazov per isolare la Crimea occupata dai russi c'è una notizia che riguarda l'agente della polizia di Minneapolis condannato per l'omicidio di George Floyd è stato accoltellato questa notte nella prigione federale di Tucson in Arizona l'aggressione è avvenuta nella sala mensa Derek Chowin era ricoverato in ospedale le sue condizioni sono considerate gravi ma stabili deve scontare una pena di 22 anni per l'omicidio di Floyd avvenuto nel maggio del 2020 le immagini della gente che preme il ginocchio sul collo e la schiena dell'afroamericano che lo supplicava di smettere ecco le vedete qui ancora una volta hanno fatto il giro del mondo scatenando l'indignazione la protesta della comunità afroamericana e di milioni di persone Chowin era stato trasferito in Arizona da un carcere del Minnesota dove era rimasto in isolamento per ragioni di sicurezza ora il via libera della commissione europea al PNRR per quanto ci riguarda la quarta tranche dei fondi del patto nazionale di ripresa e resilienza il governo Meloni ha ottenuto alcune richieste fatte mentre la commissione europea ne ha fatte altre tante soprattutto in campo di riforme modifiche di cui Giorgia Meloni si dice estremamente fiera frutto di un lavoro complesso che ha coinvolto istituzioni e categorie del settore dopo una complicata trattativa durata quattro mesi alla fine il fatidico sì è arrivato la commissione ha dato luce verde al nuovo piano nazionale di ripresa e resilienza governo e maggioranza esultano per il via libera da Bruxelles come lascia trasparire la premier che stamattina è intervenuta al forum internazionale del turismo in corso sul lago maggiore ancora ricordo quando qualcuno diceva che era impossibile rivedere il PNRR però la verità è che è impossibile la parola che usa sempre chi non ha coraggio e a noi invece il coraggio non manca trattativa lunga e articolata fatta di più di 150 riunioni dove a fronte delle richieste italiane la commissione ha risposto con altre l'Italia si impegna a interventi a favore della concorrenza in settori come farmacia assicurazioni e gas e ad abbattere le barriere all'ingresso per chi vuole avviare un'attività commerciale Bruxelles chiede inoltre di cancellare i ritardi nei tempi di pagamento nell'EPA e rispettare i 30 giorni 60 in sanità imposti dalle regole europee azioni più forti oltre a nuove riforme in tema di giustizia e appalti in totale sono 145 le misure nuove o riviste i miliardi che complessivamente arriveranno a Roma se tutti i target saranno raggiunti sono 194,4 tre in più rispetto al passato grazie a un piccolo aumento della quota di sovvenzioni 144 milioni di euro e a 2,7 miliardi di contributi aggiuntivi per il Repower U che assorbendo una quota alle risorse liberate dalla revisione del PNRR si attesta a 11,2 miliardi tanti ma meno dei 19,2 miliardi ipotizzati dalla proposta italiana perché una serie di progetti non hanno superato l'esame comunitario azzoppati soprattutto dal rischio giudicato alto di sforare la scadenza del 2026 in ogni caso il Repower italiano è il secondo più corposo dei paesi europei dopo quello della Polonia e complessivamente il PNRR ha mantenuto intatte le sue ambizioni è stata la valutazione della commissione il suo via libera dà al Consiglio UE un mese per la ratifica finale salvo colpi di scena la vidimazione per l'Italia e una decina di altri paesi arriverà in occasione dell'Ecofin dell'8 dicembre il governo dovrà poi dare una risposta al malcontento degli enti locali per i tagli di alcuni investimenti anche se il ministro Fitto ha promesso che si interverrà con fondi nazionali è una buona notizia per l'Italia ha commentato la leader PD Elish Line ma siamo preoccupati dal fatto che il governo abbia perso molti mesi a discutere di governance e che ci sono 16 miliardi di tagli a progetti su cui gli amministratori non hanno certezza di poter proseguire con quei progetti riprendendo l'allarme di ieri lanciato dal presidente del Lanci De Caro e continua il braccio di ferro tra i rappresentanti dei lavoratori e il governo rappresentanti dei lavoratori che avevano indetto uno sciopero per lunedì prossimo nel settore dei trasporti ma poi il ministro Salvini ha precettato riducendo dunque l'arco temporale della protesta e dunque i sindacati hanno deciso di posticipare questa protesta a metà dicembre sciopero rinviato dopo la precettazione decisa dal ministro dei trasporti Salvini la mobilitazione indetta dai sindacati di base per lunedì 27 novembre è spostata al 15 dicembre la decisione del ministro aveva ridotto a 4 ore dalle 9 alle 13 la stensione dal lavoro proclamata per tutta la giornata ma unione sindacale di base cui aderiscono Cobas SGB Cub e USB ha annunciato il rinvio dicendo un no unitario alla precettazione e si legge in un comunicato sfidando il ministro Salvini sul terreno dei diritti costituzionali con il rinvio ha prevalso il buonsenso ha detto invece il ministro vice premier e sono soddisfatto di avere tutelato milioni di cittadini che devono vedere garantita la loro possibilità di spostamento la mobilitazione era stata confermata ieri al termine di un incontro al MIT tra le parti dall'esito insoddisfacente lo sciopero è stato indetto un mese fa nel rispetto delle norme ribadiscono i sindacati di base significativo che la commissione di garanzia non abbia mosso il minimo rilievo lo scontro tra il titolare del ministero dei trasporti e i sindacati è aperto proseguono le mobilitazioni dei confederali contro la manovra ieri le adesioni allo sciopero del nord hanno superato il 75% secondo gli organizzatori oggi mobilitazioni nelle città del sud da Roma il leader della CISL sbarra le norme sul diritto di sciopero sono chiare nessuno pensi minimamente di mettere in discussione un diritto fondamentale e costituzionale alzeremmo veramente le barricate il numero uno della will bombardieri critica il riferimento del ministro Salvini agli scioperi a ridosso dei fine settimana vorremmo spiegare al vicepresidente che weekend spesso i lavoratori li passano al lavoro e che chi fa lo sciopero paga di tasca propria il leader della CGL Landini conferma che la mobilitazione andrà avanti questo governo sta portando il paese a sbattere afferma tutte le udienze del Papa previste per oggi sono state annullate per via di un leggero stato influenzale lo ha comunicato la sala stampa della Santa Sede tra le udienze in programma questa mattina c'era quella con il presidente della Repubblica della Guinea Bissau sono stati al momento confermati gli altri appuntamenti dell'agenda di Papa Francesco domani come di consueto la celebrazione dell'Angelus e mercoledì l'udienza generale la prossima settimana poi il Papa è atteso dal primo al 3 dicembre a Dubai per partecipare alla Copp 28 sui cambiamenti climatici ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità al ritorno vedremo eventuali aggiornamenti e sicuramente le notizie sportive a tra poco eccoci di nuovo qui allora apriamo la pagina sportiva con il calcio torna la Serie A dopo la sosta per la nazionale oggi in campo Milan Napoli e Lazio ma la giornata ruota intorno al big match di domani sera tra Juventus e Inter grazie fa una corsa e sto sudato per venire qua è il Mazzarri 2.0 che per la seconda avventura a Napoli si sforza per sua ammissione di essere più accattivante anche se la simpatia non porta punti in questi primi giorni ha avuto a disposizione un gruppo ridotto per gli impegni delle nazionali e ha lavorato soprattutto sulla testa dei calciatori per eliminare la ricaduta dell'effetto scudetto rende merito alla grande bellezza della creatura di Spalletti che a parte Kim si ritrova con l'alto livello di qualità da fare esprimere al meglio aveva lasciato la sua impronta offensiva con Amsic Clavezzi e Cavani oggi si presenta a Bergamo con Politano Quara Schelia e Raspadori atteso dal confronto con Scamacca in chiave nazionale confortante dopo oltre un mese il ritorno di Ozyman che parte dalla panchina Gasperini gli evoca brutti ricordi un 7-0 umiliante in Torino-Atalanta nel 2020 Mazzarri era uscito dal giro da un anno e mezzo dopo l'esperienza negativa di Cagliari qualcuno lo considera vintage e non mancano i dubbi sull'utilizzo della difesa a quattro spallettiana che non è nel suo DNA dato che sono bollito io credo di essere uno degli allenatori a Comerciano lo sanno più ero considerato e credo tuttora uno che può fare qualsiasi modo e tante volte mi chiamano per fare le lezioni agli altri quindi poi ho avuto la fortuna di stare un annetto fermo un anno e mezzo ho potuto studiare Stefano Pioli invece deve riprendere il controllo del suo Milan che non sa più vincere il bilancio di due pareggi e due sconfitte non è all'altezza delle ambizioni e adesso si ritrova terzo a otto punti dall'Inter il tecnico non esita a parlare dei meriti suoi e della squadra ma dopo le critiche c'è l'esame europeo con la Fiorentina in una condizione di emergenza assoluta in attacco che sta diventando il tema principale di queste ultime ore la mancanza di Giroud Leao Okafor è un nervo scoperto ma Pioli non si piange addosso e sul ragazzino Camarda che potrebbe fare l'esordio record a meno di 16 anni lancia una riflessione da ricordare il talento non ha età e caratterialmente è pronto anche il sabato di Maurizio Sari è ricco di aspettative e di preoccupazioni Salerno per ora è stata facile terra di conquista per tutti ma è una Lazio rimaneggiata Luis Alberto scoperto squalificato fuori Romagnoli e difesa inedita Patrick Ghila Si conclude il mondiale di Formula 1 e MotoGP nelle moto Francesco Bagnaia è a un passo dal titolo mondiale E' l'ultimo assalto di Pecco Bagnaia al titolo mondiale della Ferrari al secondo posto della classifica costruttori che significa non solo prestigio ma anche soldi tra seconda e terza posizione ballano tra i 7 e i 10 milioni l'attesa è enorme stamattina Bagnaia ha ottenuto il secondo posto nelle qualifiche significa che nella sprint del pomeriggio sulla pista valenziana partirà in prima fila davanti al rivale Jorge Martin che non è andato oltre il sesto tempo meglio non poteva andare il commento del pilota torinese tra i due ci sono 21 lunghezze di differenza ancora 4 punti in più dell'avversario e il gran premio di domani sarà pura Accademia vigilia di speranza anche per la Ferrari la Mercedes ha 4 punti in più un soffio c'è ottimismo perché nelle ultime settimane i limiti della rossa evidenti in tutta la stagione sono stati smussati sei giorni fa a Las Vegas si è vista una macchina più equilibrata saranno le qualifiche del pomeriggio a dare le prime vere indicazioni se Leclerc e Sainz riusciranno a confermare l'ottima velocità tenuta negli ultimi tempi con due macchine là davanti tutto diventerebbe più semplice arrivare ai secondi sarebbe un bel modo per mettere alle spalle una stagione sciagurata e guardare alla prossima con qualche certezza in più anche se il distacco da Verstappen e dalla Red Bull rimane enorme sinora 20 vittorie su 21 gare 18 dell'olandese il separo di Abu Dhabi sarà importante anche per un altro motivo per la prima volta la Formula 1 avrà il suo bar ci sarà il debutto di una nuova tecnologia che servirà a velocizzare i controlli sui limiti della pista cioè le righe bianche della carreggiata che le macchine non possono superare pena la cancellazione dei tempi in qualifica e sanzioni in gara dopo tre violazioni un dettaglio non banale per due motivi primo quest'anno le segnalazioni e almeno in alcuni gran premi delle infrazioni sono state tante ma non tutte analizzate la seconda ragione riguarda i piloti che non sempre riescono a vedere i confini della pista per via delle macchine e delle ruote molto grandi il rischio del caos è concreto Per i Tani si è iniziata la semifinale di Coppa Davis Malaga tra Italia e Serbia in questo momento sono in campo Lorenzo Musetti numero 27 del mondo e Kecmanovic numero 55 l'Azur ha vinto il primo set al tie break nel secondo set il ponteggio è ora di 5-2 per la Serbia dopo questo match l'attesissima sfida tra Yannick Zinner e Novak Djokovic la terza in 12 giorni dopo le finals di Torino e a seguire in caso di parità il decisivo doppio Zinner Sonego contro Djokovic e Lajovic in chiusura vi ricordo l'appuntamento con la Saudi Pro League il campionato arabo in esclusiva sulla nostra rete sulla 7 questa sera a partire dalle 1-10 trasmetteremo la telecronaca del match tra Eletifak e Altiad valido per la 14esima giornata per quanto riguarda Altiad la squadra di Benzema esordio sulla panchina per Marcello Gallardo il tecnico argentino ex-river plate ingaggiato dal club di Jed la scorsa settimana per sostituire il portoghese Nuno Espirito Santos esonerato prima della sosta per la nazionale si conclude così il nostro telegiornale io vi ricordo ancora il nostro sito internet tgla7.it vi ringrazio per essere stati con noi vi do appuntamento a domani arrivederci a domani per la 7 our ja che va bene